E buonasera, oggi siamo al secondo round, oggi è il 15 dicembre che è anche il compleanno di Manila quindi fatele gli auguri qui sotto, è sabato, stavolta non venerdì perché ahimè non c'è più la festa andiamo a ballare di nuovo, stavolta non Bologna ma Modena, ho il vestito un po' diverso, ho cercato di fare un look un po' meno pesante questa volta si vedrà, come se poi questo fosse leggero ma vabbè purtroppo non ho fatto tempo a farmi le trecce quindi ho capelli lisci che è qualcosa che mi fa schifo perché io ce li ho sempre lisci di mio, però non così imparo a ricordarmi, va bene sta per arrivare la loca quindi di nuovo ci sarà un'altra nottata tra la psycho e la loca stay tuned, ciao chi c'è la festeggiata, tanti auguri yeah, siamo pronte ad andare, siamo pronte ad andare, facciamo la foto pausa benzina, si giri festeggiata che strana girata, non facevi meglio l'altra parte perché c'è la cintura ah ok, insomma pausa benzina non si vede ma, ah sì, va bene tra un po' andiamo, c'è, c'è, senza non andare che da avrà, che io mi chiamo a andare, che da avrà, c'è, 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 bene si nota che ore sono? cioè sono le 5.34 qua non si vede, lo vedete là sono le 5.34 della mattina sono distrutta, sono tornata a casa adesso mai più a ballare in un posto così lontano troppo, ci vuole troppo tempo bella serata, mi sono divertita come una pazza però non sono mai rientrata alle 5.30 passate, mai sono stanca morta anche se ho fame, ma vado a dormire che a me posso più e domani lavoro mi piace, commento, iscrivetevi ciao, buonanotte no, non connetto, ciao